Ci troviamo sul tetto della casa, del laboratorio, e troviamo le due cupole che praticamente sono allineate est e ovest. Esatto, noi siamo proprio nel posto che abbiamo visto sulla pianta, sui disegni, dove c'era la cupola che ospitava il telescopio. Le cupole che vediamo a destra e sinistra sono le cupole est e ovest che ospitavano strumentazione più piccola, telescopi più piccoli che negli anni, negli decenni, si sono avvicendati e per finire ad ospitare dei telescopi che oggi vengono usati soprattutto per didattica, per insegnare un po' come si usano i telescopi, che cosa ci si può fare, che tipi di, ad esempio, non solo osservazioni ma anche di riprese fotografiche si possono realizzare. E il resto invece ospita uffici e laboratori, ma non c'è più il telescopio storico. Le 870, quale altre cose sono state costruite qui intorno, oltre a questa... Beh, la cosa più significativa è 50 anni dopo, agli inizi degli anni 20, si decide di costruire il miglior telescopio solare e quindi viene realizzata la torre solare, che poi vedremo. La torre solare è uno strumento che consente di fare... è un telescopio che consente di osservare il sole, quindi di giorno, da quando sorge a quando tramonta, ed è una costruzione, quella nostra qui ad Arcetri, particolare, perché viene realizzata in gemellaggio con una torre solare analoga, realizzata negli Stati Uniti, sul monte Wilson. Il direttore di allora si chiamava Antonio Abetti, era molto amico di George Hale, che era un famoso astronomo, anche Abetti lo era, e insieme decisero come realizzare. E per Firenze la peculiarità fu che la torre solare rappresentò la prima struttura in cemento armato realizzata a Firenze. È una struttura molto bella, ancora prima dello stadio di nervi, esattamente. Quindi Arcetri ha questo simbolo che ha anche un valore nella storia, diciamo, della realizzazione, dell'architettura, di una bellissima silhouette della torre solare, che è un telescopio un po' anomalo perché è tutto aperto, non c'è un tubo. Noi ci immaginiamo i telescopi sempre con dei tubi. La torre solare invece è un piccolo telescopio, una piccola cupolina bianca, che raccoglie la luce del sole e la manda verso il basso, ma mentre si propaga verso il basso non c'è un tubo che la contiene, la torre è completamente aperta. Ma non si perde perché di luce ce n'è tanta. Il sole dà troppa luce anche per degradare, diciamo, le osservazioni, non mettendo un tubo che contenga la luce. Professore, qui siamo in una delle parti più belle di questa passeggiata. Vedere forse quella più, per i bambini, sicuramente quella più affascinante. Siamo di fronte a questo telescopio enorme per noi, però lei ci diceva che non è di quelli più moderni, è un po' di vecchia generazione. Eh sì, perché questo è il telescopio storico, quello che era stato collocato in cima all'edificio quando l'osservatorio venne costruito. È un gioiello, è un gioiello che funziona ancora, parliamo, 1866 quando è stato realizzato, ma noi lo usiamo per le nostre visite, le osservazioni notturne, anche diurne, perché il sistema di lenti che è utilizzato per portare la luce all'oculare dove si mette l'occhio per osservare, è di enorme qualità. Perché questo? Perché quando si decise di costruire l'osservatorio di Arcetri, il Gran Duca chiamò il migliore ottico che c'era sul mercato. E questo migliore ottico si chiamava Giovanni Battista Mici, era il più grande costruttore di sistemi ottici, microscopi soprattutto esistenti in Europa, lui vendeva i suoi strumenti a tutti, e realizzò il cuore del telescopio che è il sistema di lenti che raccolgono la luce. Quindi si assicurò la persona più in gamba per realizzare le ottiche. Ma non bastavano, le ottiche sono una parte fondamentale del telescopio, quello che serve è anche la meccanica. In che senso? Lo vedete, il tubo è grande, va gestito, va supportato, va mosso. Quindi supporto, meccanica. E come dice giustamente, ma va mosso con la precisione, l'accuratezza che serve all'astronomia, dove le posizioni devono essere precise quanto più possibile. E questo come si otteneva? Si otteneva con delle officine meccaniche, che non esistevano. Firenze non aveva sviluppato ancora una tradizione nella ottica e nella meccanica. La costruzione e la realizzazione del grande telescopio di Arcetri serviva proprio a questo. Servì a questo, a far partire quelle che poi diventeranno le officine Galileo. Le officine Galileo nascono con la necessità di realizzare questa struttura portante, importante, ma non soltanto solida, grande, senza flessioni, questi sono tubi lunghi quasi 5 metri, ma anche che si potesse muovere con grande agilità e precisione. Perché? Perché non c'erano i motori. Tutto avveniva manualmente. L'osservatore guardava l'astronomo, guardava l'occhio, ma non poteva muovere il telescopio per bene. E allora ci doveva essere il suo assistente. Il suo assistente che muoveva, grazie a queste ruote, guardando, traguardando su una ruota dentata e illuminata, cambiava costantemente la posizione del telescopio per tenere puntato l'oggetto che l'astronomo stava guardando. Quindi un assistente che muoveva, l'astronomo che guardava, e vedete quelle manopole nere che permettevano anche all'astronomo di aggiustare, e la terza cosa fondamentale è il tempo. Il momento in cui in cielo passa un certo oggetto che io voglio studiare. E lì è l'orologio. L'orologio a pendolo era lo strumento più accurato dell'epoca che permettesse di misurare il tempo. D'accordo? Il tempo è la grandezza fisica che si misura meglio. Oggi ci sono gli orologi atomici che misurano il tempo con una precisione straordinaria. Non sappiamo cos'è il tempo, non lo possiamo definire, ma sappiamo misurarlo, è un po' un paradosso. E quindi l'estrema precisione del momento, perché io voglio vedere oggetti che non vedo a occhio nudo, e mi devo affidare al telescopio. Quindi movimenti, tempo, posizione, tempo e l'occhio umano che guardava. E tutto manualmente, e tutto al buio, e tutto di notte, all'aperto, al freddo. Una vita dura. Una vita dura ma bella, penso. Senta, un'altra cosa. Ma con questo telescopio sono state fatte delle scoperte importanti? Sì, perché questo era il telescopio più grande in Italia. Il sistema ottico ha delle lenti di circa 35 centimetri di diametro. Era il terzo in Europa. I due più grandi erano a Parigi, all'Osservatorio di Parigi, a Londra, a Greenwich, dove per storia e per tradizione hanno sempre avuto i telescopi più grandi. Quindi gli italiani non erano poi così scadenti? Assolutamente no. Avevano il grande costruttore di lenti. Amici era noto in tutto il mondo per la sua qualità. Quindi realizzò questo sistema eccezionale e il telescopio funzionava, grazie a questa meccanica, diciamo, di precisione, altrettanto bene. E il Donati, che era il discepolo di Amici che inaugurò l'osservatorio, era un grande osservatore, grazie a questo telescopio, scoprì comete, asteroidi, corpi minori del sistema solare. Per 20-30 anni questo fu il miglior telescopio che c'era in Italia. Vediamo ad oggi però. Oggi qualcuno ha preso un po' il nostro posto sotto questo aspetto. Sì, ce lo auguriamo, se no parliamo solo di storia. Per andare all'oggi ci dobbiamo trasferire di qua. Vediamo un modellino che così da profana, direi, una forma un po' spaziale. È una forma inusuale, molto diversa dal tubo che abbiamo visto. Questo è un binocolo, infatti, ha due specchi. La peculiarità è non soltanto di essere un binocolo, ma di essere un enorme binocolo. Perché ciascuno di questi due specchi ha un diametro di 8,40 metri. Quindi siamo partiti da Galileo, 4 centimetri, Il telescopio Amici, circa 40 centimetri, 10 volte più grande, 250 anni dopo Galileo, ha 8 metri, quindi 20 volte più grande, ed è uno dei più grandi telescopi al mondo. Questo è collocato in Arizona, negli Stati Uniti. E il fatto di avere un binocolo è un unico, non esistono altri telescopi così, e consente di fare un'osservazione migliore che non avendo un occhio solo. Come noi, noi abbiamo un binocolo, non ce ne rendiamo conto, ma i nostri occhi sono in realtà un binocolo. Ecco, questo è un grande binocolo. E Arcetri che cosa ha fatto? Ha fatto questa parte nera che c'è in cima, che nella scala qui sembra piccola, in realtà sono degli specchi di un metro di diametro. Sembra poco, no? Dice, ma come Arcetri un metro? Gli altri fanno 8,40 metri. Perché è così interessante quello che è stato fatto ad Arcetri? Perché senza questi secondari, specchi secondari, i primari sono quelli da 8 metri, senza questi specchi da un metro, l'intera struttura non funzionerebbe. Al livello che invece uno, diciamo, si augura che funzioni, date le dimensioni. Perché? Perché questi specchi sono, quindi abbiamo un piccolo esempio, è un prototipo, questi specchi sono specchi, questo è rotto perché è stato veramente usato, da tutti quanti, eccetera, ma è uno dei primi prototipi, è più piccolo, quello vero, ho detto, è più grande, no? Ha un diametro di un metro. Questi specchi hanno la caratteristica di essere molto sottili, vedi? Sì, sì. Un millimetro, due millimetri, e sulla parte coperta hanno dei pistoni che vengono sospinti elettromeccanicamente, spinti, che deformano la superficie dello specchio. Questo lo rimettiamo sul suo vero supporto, quindi lo specchio viene continuamente sollecitato da questi pistoni che deformano la superficie, perché la deformano? Perché la adattano a come sarebbe la raccolta della luce se non ci fosse l'atmosfera. Allora, è impressionante, concettualmente è semplice, noi abbiamo, la luce viene dallo spazio, le stelle emettono la luce, arriva vicino alla Terra, non succede nulla. Siccome noi abbiamo l'atmosfera intorno che ci protegge, la luce che arriva dall'alto comincia a passare attraverso gli strati della Terra e si deforma. A seconda allo strato che trova. A seconda allo strato che trova, la composizione, la velocità dei venti, eccetera. Quando arriva a Terra non è più la stessa di quella che era. Come si fa allora? Cosa produce questo? Produce il famoso tremolio delle stelle, quello che è tutto romantico, affascina, le stelle scintilla. Bellissimo. Un astronomo è un disastro. E come si risolve il problema? Non si sapeva. Cioè, si sapeva, ma non era tecnicamente possibile. Allora, o si andava al di fuori dell'atmosfera, nello spazio, Hubble. Sarebbe stato bello. Sarebbe stato bello, ma è estremamente costoso. Allora, l'altra cosa era dire, va bene, proviamo a annullare gli effetti dell'atmosfera. Cioè, modifichiamo. È stata un'invenzione anche questo pensiero qui? Sì. Oppure già esisteva? Negli anni 50, no? Qualcuno ha tentato di dire, ma cerchiamo di trovare il modo di annullare l'effetto di scintillio delle stelle. Anche Galileo ci aveva pensato, ma non poteva risolverlo. Perché noi l'abbiamo risolto? Uno, perché l'elettronica, i computer, si muovono a velocità enormemente grande. e serve quello. E due, perché la tecnologia della realizzazione degli specchi, oggi consente di fare questi specchi così sottili. E anche flessibili. E flessibili, senza romperli. Come in questo caso. Senza romperli. E a quel punto, i due elementi essenziali, sono stati realizzati, assemblati, e messi su quel grande telescopio. Risultato? Spettacolare. Le osservazioni che sono state fatte hanno mostrato che, grazie a questi meccanismi, metodi sviluppati qui, dell'ottica adattiva si chiama. Perché lo specchio si adatta. Quindi è recentissima questa cosa. Tre anni fa, due anni fa. E' stato possibile osservare meglio di come si osserva al di là dell'atmosfera, nello spazio. E il titolo fu LBT, il grande telescopio binocolare, batte Hubble 3 a 1. Perché vedeva tre volte meglio di Hubble. Siamo in conclusione di questa interessantissima puntata di Passeggiate nella storia. Grazie all'intervento del padrone di casa, del professor Palla, qua da Arcetri, al quale rivolgerei l'ultima domanda. Arcetri, è visitabile, è possibile, da parte delle scolaresche, immagino, oppure anche delle persone comuni, venire a visitare l'osservatorio? Assolutamente. Noi abbiamo, tutti i mesi, facciamo aperture notturne in occasione del primo quarto di luna. Durante la settimana del primo quarto di luna, che è segnato su tutti i calendari, quindi uno volendo lo sa quando è, perché il primo quarto, perché è il momento in cui c'è la luna, che è bellissima da vedere, non c'è troppa luce che poi offusca in pratica l'osservazione delle altre cose. Quindi ogni mese, durante l'inverno, che fa buio presto, abbiamo due visite, alle sei e mezzo e alle otto e mezzo, sia per gruppi, durante la settimana, organizzati di 30-35 persone e durante il fine settimana invece abbiamo l'osservatorio aperto. Se si vogliono prenotare piccoli gruppi, famiglie, amici, quello che è, senza avere un grosso gruppo, possono prenotare e venire a fare le osservazioni se il tempo è bello, godranno dello spettacolo del cielo. Che abbiamo goduto noi tra l'altro. E noi lo ringraziamo di questo e lo ringraziamo anche per averci